Movida Loca Television 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 Il grande sabato notte targato Movida Loca Television Movida Loca Television Movida Loca Television Movida Loca Television Bellissima serata, bellissima serata, divertente Anna, da dove? Maddaloni Anche Caserta qui, Anna un commento sulla serata Serata stupenda e caotica Da rifare, una serata da rifare Assolutamente, da dove arrivate voi? Maddaloni, quindi la Caserta, provincia di Caserta è qui che bella, 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 viva Movida Loca Television hanno un nome, hanno un nome, uno di questi è Madhouse, questo Irish Pub trasformato per l'occasione in taverna, una grande taverna napoletana e accanto a me il piacere di avere... Scolese Nicola è il proprietario Nicola, grazie per averci invitato in questa prima, in questo debutto qui nel tuo locale, un locale strariempito Diciamo che abbiamo fatto una formula mangia e bevi da 10 euro, giusto per battere la crisi, giusto per far passare una... Serata un po' diversa, ovviamente il Napoli ha giocato col Milan, ha vinto, quindi il doppio divertimento Doppio divertimento perché ci siamo divertiti ancora più di più Il mio spettacolo poi con le immagini che stanno passando di fondo lo vedono tutti, si sono divertiti, eccoli qui le immagini ma diciamo nella fattispecie il Madhouse che cos'è e cosa offre e chi viene qui? Il Madhouse è una struttura fatta per eventi, balli latinoamericani, pizzeria, pub, braceria fra poco Quindi di tutto e di più Di come uno vuole mangiare, mangia Allora Nicò, mettiamo caso che io devo fare la festa di 18 anni a mio fratello piccolo, qui è possibile? È possibile, sì Festa di laurea? Possibile, sì Qualche cerimonia? Anche una cerimonia Insomma, la risposta giusta a tutto ciò che voi chiedete, divertimento, buona cucina, buona area, pulitissima, attrezzatissima I presupposti giusti sono qui, Madhouse, via Giuseppe Semmola, Ercolano Napoli, siamo in una traversa di via Benedetto Gozzolino Un motivo perché devono vendire qui? Per divertirsi E se ve lo diciamo noi, se ve lo dice Nicola, è verità L'indirizzo è questo scritto qui sotto, il contatto Facebook è questo qui Ricordate, tutti i consigli di Mario Pellicci e di Movida Logo Television sono testati 100-100 Grazie Nico Arrivederci Ma ci rivediamo noi? Penso di sì Evviva Movida Logo Television, evviva Madhouse Ciao, arrivederci Per la tua pubblicità su Movida Logo Television 331-614-1500 Grazie a tutti